Garibaldi vs. Zombie di Andrea Guglielmino e Fabrizio De Fabritis, edito da M3 Edizioni, che dire ragazzi una piccola perla del panorama fumettistico italiano. Wabalaba dab dab e bentornati su No Mamamazzo e bentornati nella rubrica Fumetti. Come già detto nel video di Natale, è passato un po' di tempo, vi ho mostrato un po' di fumetti che avevo ricevuto o che avevo iniziato a leggere in quel periodo, non ho mai avuto modo di parlarne in modo specifico fumetto per fumetto, sto iniziando pian pianino a farlo in questo periodo. È la volta ora di Garibaldi vs. Zombie, avevo già parlato della Divina Congrega che vi avevo mostrato a Natale e poi ho fatto un video specifico, ve lo metto magari qua in descrizione, qua nelle schede. Oggi parliamo di Garibaldi vs. Zombie, complice due cose. La prima, il suo autore Andrea Guglielmino è uscito anche in edicola questo mese con Samuel Stern numero 27 dal titolo Il Quinto Comandamento e la seconda motivazione è che stasera in live sul mio canale Twitch, link qua in descrizione, avremo proprio ospite Andrea Guglielmino che ci parlerà appunto sia di Samuel Stern numero 27, poi parleremo anche di Samuel Stern numero 8, il secondo girone, l'altro numero che lui ha scritto e ovviamente parleremo di Garibaldi vs. Zombie. Prima di cominciare, se ancora non lo avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega, di condividere il video con tutte le persone che si sentono patriottiche e di commentare qua sotto con quello che ve ne è parso di questo fumetto. Se l'avete letto, se vi ho dato curiosità, ovviamente qua in descrizione trovate anche lo shop ufficiale della M3 Edizioni per acquistare questo numero. Che dire, la prima impressione quando vedete il titolo, anche solo l'immagine di copertina di Garibaldi vs. Zombie, è quella di quei film degli anni 2000-2000-2010 dove non sapevano più, no, magari cosa inventare per raschiare il fondo del barile del film horror paranormale, anche il film di avventura paranormale, mi viene in mente Van Helsing, mi viene in mente appunto Abramo Lincoln, Cacciatore di Vampiri. Ecco, mi viene da pensare a questo quando guardo Garibaldi vs. Zombie, ma in questo caso l'operazione è volutamente trash, è volutamente tamarrissima al massimo. Quindi Guglielmino va proprio a pescare da questi filoni cinematografici dove c'è questa sorta di, non lo so, ucronia, revisione storica di quello che è successo, dove in questo caso Garibaldi si deve occupare non solo di unire l'Italia, di combattere per l'Italia, ma anche di combattere contro i non morti. E ragazzi, i non morti, gli zombie, sono solo l'inizio di questa avventura perché ce n'è di ogni. Il numero, come già detto nel video di presentazione di Natale, è infarcito di citazioni, di citazioni appunto narrative e anche citazioni visive, ve ne faccio vedere alcune, alcune tavole. Appunto le tavole sono disegnate dal fantastico fumettista esplosivo Fabrizio De Fabritis, alle mie spalle trovate anche altre sue tavole, vediamo se trovate l'easter egg, scrivetemelo qua sotto. Qua vediamo appunto l'inseparabile compagno d'armi Nino Bixio. Questo duo mi ha ricordato moltissimo Batman e Robin, soprattutto nel loro essere partner in questo combattere per la giustizia, per il bene comune. Manco a dirlo, c'è questa citazione a Batman e Robin, a Batman la serie degli anni 60, in cui Batman e Robin scalano un palazzo con la corda. Ci sono i cani zombie che mi hanno un po' ricordato anche i cani mutanti del Hulk di Ang Lee del 2003. L'amicizia sancita tra Garibaldi e Nino Bixio è sancita con questa fantastica frase che cito, dicono che sono l'eroe dei due mondi, ma chi lascia un amico in difficoltà è l'eroe di sole due cose, della verga e dello sterco. Se cogliete la citazione, scrivetemelo qua sotto, è una citazione ovviamente a L'Armata delle Tenebre. Scrivetemi la parafrasi di quello che ha detto Garibaldi qua sotto. Ho notato anche una vaga citazione, non so, a 300 o anche a qualche episodio di Seven Deadly Sins in cui c'è il villico del luogo, per Giunta Storpio che appunto mi ha ricordato 300, che manda in una trappola i nostri eroi. E in questa trappola si trova niente poco di meno che l'arci nemico di Garibaldi. Manuel d'Arte de Aguiar, scusate io non so lo spagnolo, l'avrò pronunciato malissimo, che in questo contesto è colui che ha ferito Garibaldi ad una gamba, però allo stesso tempo è colui a cui è stata portata via la moglie, Anita, che poi è diventata Anita Garibaldi, quindi hanno una faida vecchissima in sospeso che continua e continua. Questo Manuel, tutte le volte che ha incontrato Garibaldi, è stato accecato ad un occhio, quindi prima ad un occhio da Garibaldi, poi un altro occhio da parte di Anita e adesso ha una sorta di marchingegno steampunk che gli permette di vedere. Ma come tutto questo è possibile? Come lui riesce a vedere con un marchingegno steampunk? Come lui riesce a controllare gli zombie elettricamente? Si scopre che è stato rapito dagli alieni che gli hanno infuso una conoscenza molto più avanzata, perché pensavano che fosse lui Garibaldi, perché lo hanno analizzato dal suo sangue, ma in realtà hanno scoperto solo che hanno creduto che lui fosse Garibaldi dal sangue che ha al collo, in un ciondolo, che contiene appunto il sangue del suo arci nemico. E quindi con questo errore alieno l'arci nemico di Garibaldi è stato praticamente reso molto più intelligente dal punto di vista storico, quindi ha una intelligenza che ha il pari presumo della nostra conoscenza scientifica attuale, se non superiore, appunto controllare gli zombie elettricamente credo che non sia ancora al nostro livello di scienza attuale. Quindi in questo numero fondamentalmente si vede una battaglia iniziale classica, classica si fa per dire, con gli zombie, poi si va appunto a sconfiggere il nemico dietro al castello che è questo Manuel e si sconfigge il nemico e in tutto questo vediamo anche dei flashback che narrano appunto la nascita di questa nemesi appunto, di questa inimicizia tra Garibaldi e Manuel. Come se non bastasse, il tutto è commentato da due voci fuori campo che ricordano vagamente le due voci che ha nella testa Deadpool, però in questo caso non ci è dato sapere chi sono, potrebbero essere benissimo le voci di due lettori che si trovano tra le mani quest'opera, uno molto scettico e uno invece gasatissimo per quanto si attamarra quest'opera. Oppure potrebbero essere, non lo so, le voci nella testa dell'autore, un autore che fa autocritica e che non riesce a essere così volutamente trash senza far notare che i ragazzi lo sto facendo apposta, però in questo modo con queste due voci che litigano tra loro, in un certo senso mette le mani avanti, ma rende il tutto ancora più divertente da leggere. Vi mostro un'altra tavola per farvi vedere quanto il taglio di questa serie, di questo one shot per ora presumo continui, sia americano, c'è una griglia vagamente a 6 ma che sfora a tutta pagina, quindi c'è una sorta di splash page che viene tappata da una griglia a 6, c'è un'altra splash page qui accanto dove si mostra appunto anche il design degli alieni che è tutt'altro che scontato ed è così per tutto il numero. Tutto il numero non ha nulla da invidiare né a livello grafico né a livello di film d'azione diretto da, non lo so, da Michael Bay e con protagonista Vin Diesel nel ruolo di Garibaldi non ha nulla da invidiare a un format americano. Io vi consiglio tantissimo di leggerlo, vi consiglio tantissimo di acquistarlo, di divertirvi un sacco a leggerlo e a cogliere tutte le citazioni alla cultura popolare americana ma anche nostrana perché no. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo numero, se già lo avete letto possiamo tranquillamente trovarci stasera su Twitch, parlarne insieme con l'autore, se invece volete saperne di più venite direttamente in chat su Twitch e fate delle domande direttamente a lui. Io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto, vi dico arrivederci al prossimo video, vi ringrazio per avermi seguito fino a qua e noi ci vediamo stasera in live.